Circa 220 persone si recarano a Roma questa grande manifestazione che non ha nulla a che vedere con il giorno prima delle elezioni, non stiamo andando a fare politica di nessun genere, stiamo andando semplicemente a portare la solidarietà a una organizzazione sindacale che ha subito il disfacimento, la distruzione della propria casa, questo nulla di più. Dopo l'assalto alla CGL i sindacati scendono in piazza, la manifestazione di sabato 16 ottobre indetta dai segretari della CGL, della CISL e della UIL per il lavoro e la democrazia sarà indubbiamente molto partecipata anche dal territorio aretino. Beh quello che è successo sabato scorso penso che sia agli occhi di tutti, proprio chi vuol mantenere i paraocchi non vuol vedere quello che è stato un attacco, un puro attacco squadrista verso un simbolo, un simbolo chiamiamolo così di sinistra, vogliamo metterla così? Sì può essere però ve lo dico anche fra i miei iscritti non ci sono solamente iscritti di sinistra, ci sono iscritti perché quello che vogliono è la tutela da parte di un sindacato che non ha mai chiesto la tessera se non quella della CGL di alcun partito. Quindi penso che solo chi veramente vuol guardare con i paraocchi non riesce a condannare quello che è accaduto e ve lo dico perché quella Camera del Lavoro la conosco benissimo, l'ho frequentata per tanto tempo e continuo a frequentarla. Quindi vedere quell'ingresso devastato tutto rotto è come se un ladro fosse entrato in casa mia, fosse entrato in casa vostra perché bene o male quella è la sede di ogni iscritto e ne può fare, ne può soffrire ogni iscritto alla CGL, ancor più all'FLC CGL. Quindi anzi forse direi che è peggio ancora di un ladro che ti entra in casa perché al limite il ladro ti porta via le cose, questi invece si sono fermati alla distruzione del tutto, è ancora più umiliante nei loro confronti, non nei nostri perché ricostruiremo a breve. E intanto arriva sempre dalla CGL l'appello anche al popolo dei non vaccinati, in questo caso del mondo della scuola. Il personale della scuola, i lavoratori della scuola, dai docenti al personale ATA, al personale educativo, a livello italiano hanno risposto veramente bene a questa richiesta da parte del governo, a questa richiesta di civiltà. Tanto che oltre il 90% dei lavoratori della scuola hanno aderito e sono in possesso del Green Pass. Per quanto riguarda la nostra città, la provincia di Arezzo rispecchia all'incirca le percentuali del nazionale, cioè anche noi siamo a oltre il 90% dei vaccinati, aspettiamo che quelli che decidono di non vaccinarsi e faranno i tamponi, speriamo che da domani mattina si presentino con il Green Pass fatto con il tampone in modo tale che la scuola non debba risentire di decisioni rispettabili da parte dei lavoratori, possano interrompere la continuità didattica degli alunni.